Buongiorno a tutti, bentornati, episodio numero 7 del corso di PHP MySQL, quest'oggi vediamo Prepared. Allora direi che tra tutte le lezioni che abbiamo già fatto, e forse anche quelle che andrò a fare di questo corso, è la più complessa da spiegarvi. Quindi attenzione perché va capita, non è così immediata. Quindi, che cos'è Prepared? Prepared è un metodo che riceviamo da MySQLi che ci permette di preparare anticipatamente uno statement SQL e eseguirlo successivamente. Che cosa vuol dire? Allora, quindi abbiamo visto è fatto in due fasi, Prepare e Execute. Prepare è la fase in cui noi scriviamo uno statement come placeholder, vi faccio vedere. Quindi, vi ho qua generato uno statement SQL con Prepared, quindi ho creato un insert in persone, nome e cognome e mail, con i valori, punti di domanda. Che cosa succede? Che poi noi, come vi farò vedere da codice, andiamo a preparare questo statement, non facciamo più query, ok? Ma andremo a fare MySQLi Prepared. Questa cosa manda il nostro statement SQL al server. Il server lo prende, vedete? Lo statement viene mandato al server, che fa il parsing, ok? Quindi traduce lo statement, fa il controllo della sintassi, quindi verifica che è tutto in check, e l'ottimizzazione della query. Dopodiché se la salva lì in pancia per dopo. Quindi lui sa che ad un certo punto di vita del programma, lui avrà questo statement SQL a cui dovrà inserire questi valori. Molto comodo. Poi cosa farà? Una volta che facciamo execute, vengono mandati semplicemente i valori, ok? Quindi viene mandato tipo Luca Rossi 25 e non più tutto lo statement. Questo statement viene preso, viene completato e i dati vengono inseriti. Uno potrebbe dire cosa cambia dal fare insert direttamente. Cambia tantissimo. E lo vediamo qua nei vantaggi. È molto comodo, soprattutto per statement che eseguiamo, che abbiamo intenzione di eseguire tante volte con valori differenti. Pensate quindi un insert, magari dobbiamo continuare a inserire nuova persona, nuova persona, nuova persona, nuove persone, nuove persone, e via discorrendo. Diventa molto più veloce, perché? Perché è parsato una volta sola. Quindi anziché fare, se noi facessimo continuamente, ricordatevi l'oggetto connessione, vi ricordate? Oggetto connessione, query, oggetto connessione, vabbè, al diavolo, questo, oggetto connessione query. Se io facessi così ogni volta, per ogni query diversa, voi capite che lo statement viene mandato, viene parsato, viene controllato, bisogna vedere ogni volta se la sintasse è corretta, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ogni volta fa un certo tipo di lavoro, ma se noi invece gli mandiamo solamente questo statement una volta, lui fa il controllo una singola volta, e poi diciamo, guarda, riprendi lo statement di prima, mettici dentro Luca Rossi 25. Riprendi lo statement di prima, mettici dentro Marco Verdi 31. Riprendi lo statement di prima, e mettici Anna Verdi 19. Cosa succede? Che lui già ha fatto il parsing una volta sola, ok, l'ha già controllato, e se noi gli diamo i dati corretti, lui non ha alcun problema. Quindi comincia, ok, me lo ricordo, bam, e inserisce, bam, e inserisce, bam, e inserisce. Mentre invece ogni volta che noi facciamo query, come ho fatto vedere prima, lui prende la query, la controlla e inserisce. Quindi capite che c'è tutto questo parsing, controllo, sintassi e ottimizzazione che viene saltato ogni singola volta. Quindi risparmiamo un po' di tempo, in realtà, impercettibile per noi, ma su grandi quantità diventa importante. Quindi questo è un motivo. La seconda cosa importante è ottimo contro SQL Injection. Se vi ricordate, SQL Injection è quella cosa, quella tecnica hacking per cui le persone potevano iniettare SQL attraverso degli input che si trovano sul nostro sito e cambiare il comportamento del server, quindi la risposta del server. Andando a far così, noi prepariamo lo statement prima, quindi nessuno può interferire. Cosa succede? Che poi gli mandiamo solo dei valori. E i valori qua sono inviati direttamente al database con un protocollo di comunicazione diverso e sicuro a cui nessuno può accedere, ok? Di conseguenza, l'SQL su cui le persone dovrebbero fare Injection è già stata inviata all'inizio. E quando le persone avrebbero possibilità di fare SQL Injection, in realtà non possono, perché noi stiamo mandando solo dei valori. E i valori non possono subire questo tipo di attacco. Soprattutto perché? Perché sono inviati con un protocollo differente e sicuro, ok? Quindi, questa è la spiegazione, non tanto l'SQL Injection, ma la cosa che mi interessa è che prepariamo questo statement una volta e ogni volta andiamo semplicemente a inserire nuovi valori, vedete così? Anziché copiare questa cosa all'infinito, va bene? Come se il database e il server avessero in pancia la variabile di questa cosa qua, ok? Avessero in pancia questa cosa qui e ogni volta che mettiamo dei valori sanno cosa fare. Questa è la spiegazione più semplice che vi so dare a riguardo. Quindi, non perdiamo tempo e andiamo a fare questo prepare. Allora, dobbiamo cambiare la nostra query qui, quindi non solo cambiamo la query qua, ma togliamo questi, sufficiente perché non voglio prendere da form, in questo momento lavoriamo solo con insert.php, e andiamo a creare un if, non ci serve più questo controllo qui, ma ci serve dollaro statement, ok? Potrebbe essere prepared statement, però gli diamo statement come parola, visto che è singolo. E prendiamo dollaro connessione, dovremmo trovare prepared, eccolo qua, prepare, e mettiamo come al solito SQL, il nostro statement SQL, e qua non cambia niente, cambia solo il fatto che usiamo prepare anziché query, quindi lo stiamo preparando e non lo eseguiamo, e lo assegniamo una variabile. Apriamo la nostra parentesi, blocco di codice if, e andiamo sotto a mettere else, quindi mi piace sempre preparare subito else, e andiamo a scrivere echo, errore, non è possibile eseguire la query, e mettiamo due punti, dollaro SQL, e poi ci aggiungiamo dollaro connessione, bam, error. In realtà dobbiamo fare un po' di spazio qua, quindi facciamo il punto così, e poi qua facciamo una nuova frase, error. Ok, quindi abbiamo sistemato nel caso non vada bene, adesso sistemiamo nel caso vada a gonfie vele. La prima cosa che dobbiamo fare è fare un binding dei parametri, perché vedete che noi abbiamo tre punti di domanda, ma questi tre punti di domanda non vogliono dire niente, quindi facciamo statement, bind, param, vedete che qua abbiamo dei caratteri che possiamo usare, ok? E gli stiamo dicendo che tipi di variabili gli stiamo mettendo dentro. In questo caso noi abbiamo tre stringhe, vedete, quindi usiamo tre s. Allora facciamo così. Molto strana questa cosa, non propriamente, come si può dire, facile da intuire, quindi abbiamo tre s, un, due, tre, che sono tre stringhe, e andiamo a mettere queste tre stringhe, Abbiamo dollaro nome, dollaro cognome, e poi abbiamo dollaro email. Salviamo, se mi chiedete punte virgola, andiamo avanti. Adesso facciamo delle prove diverse, quindi creiamo due persone differenti. Quindi andiamo a fare dollaro nome uguale Luca, ok? Dollaro cognome uguale Rossi, e poi abbiamo dollaro email uguale Luca.rossi at gmail ormai .com, se vogliamo provare a comprare questo dominio. E dopodiché andiamo a fare statement, execute, anzi, più che Luca Rossi eccetera, proviamo dei nomi Leopoldo, perché sennò avremo dei problemi, quindi Leopoldo Mare, e poi facciamo Leonardo Monti, quindi andiamo a fare anche Leonardo Monti. Doviamo però cambiare qua, e poi abbiamo Leonardo Monti. Va bene, va bene Monti, non è un problema. Leonardo Monti. Quindi, qua è tutto in check, ci manca solo uno statement qua finale, ecco, record, inseriti con successo, punto esclamativo, bam. E quindi, questo è il nostro statement, andiamo a vedere. Ed ecco qua, record inseriti con successo. Andiamo a vedere qua, aggiorniamo, ed ecco qua, Leopoldo Mare e Leonardo Monti. Vedete? Che è tutto in check, ancora una volta l'abbiamo eseguito. Erano solo due record, quindi è stato veramente veloce, su probabilmente mille passarecord sarebbe stato molto più veloce, molto più sensibile la velocità. Andiamo a rivedere un'ultima volta, che cosa abbiamo fatto. Il codice che ci interessa è questo. Dobbiamo solo poi fare una cosa che mi stavo dimenticando, ovvero fare la chiusura dello statement. Quindi statement, lo andiamo a chiudere. Ok, perché sapete che lo statement passa, ha ben detto che passa tramite un certo protocollo i dati, quindi andiamo a chiudere come se fosse una connessione, differente, ma avete capito il concetto. Di base questo è il codice, quindi abbiamo il nostro insert, a cui mettiamo dei valori punte di domanda. Andiamo a creare lo statement, andando a fare un prepare. Andiamo a fare il binding, qui ne abbiamo quante variabili, e ci mettiamo i caratteri che ci servono, int, string o qualcos'altro. Potete guardare qua la documentazione, vedete, b e altre cose, poi c'è d, eccetera. Mettiamo le nostre variabili, andiamo a creare la persona, potremmo farlo tranquillamente da form, in questo caso ve lo farò vedere qui. Siamo andati a creare delle persone, abbiamo fatto execute, molto bene, e poi basta, abbiamo fatto l'errore, e chiudiamo. Quindi questo è come funziona prepare. Nel caso in cui avessimo un form, noi, il form di prima ve lo ricordate, noi non faremmo altro che fare dollaro request, se vi ricordate, e avremo una cosa del genere con nome. Ok? Poi sotto avremo cognome e email. Perché non abbiamo tutta la cosa che abbiamo fatto prima, quindi dollaro connessione, realescape string, realescape query, non mi ricordo più onestamente. Perché? Perché come vi ho detto, non abbiamo problemi con SQL injection, in questo caso. Quindi ci basta farlo così, cambiamo anche questi, e siamo a posto. Io vi ringrazio per essere rimasti con me, noi ci vediamo al prossimo episodio, vi ricordo sotto in descrizione, ci sono gli abbonamenti, se volete sostenere il canale, e poi ho creato la vetrina Amazon, in cui listo un po' di libri di programmazione, piuttosto che di produttività, crescita personale, sviluppo, business e quant'altro, magari se siete interessati al pacchetto completo, io lo sono, quindi ho detto perché non metterlo a disposizione, buoni libri che ho letto, in più, e poi il gruppo Telegram, se volete entrare nella community. Vi ringrazio ancora, e alla prossima. Ciao ciao!